in ferrari si chiamano team principal qua si chiamerà amministratore delegato comunque l'arrivo di maurizio arriva bene chiude un po il discorso il cerchio del quadro dirigenziale quindi affiancherà federico cherubini nel ruolo di direttore generale o direttore sportiva se non ricordo bene c'è un po differenza in effetti e comunque morizio arriva bene nel ruolo di amministratore delegato quindi anche le voci su giovanni carnevali a questo punto vanno a cadere la juventus sta mettendo assieme o ha finito di mettere assieme anche l'organico dirigenziale nonostante ancora girino voci non so messe in giro da chi ma che in questo momento da parte mia non trovano conferma sulla possibile partenza anche di pavel nedved oltre che di fabio paratici non credo anche perché nedved è stato ad un vertice recente con con mino raio la a monte carlo lo riporta anche one football nel quale ovviamente si è parlato a largo raggio un po delle operazioni che si potrebbero perfezioni che si potrebbero perfezionare con questo super agente super eroe super mino super tutto soprattutto super commissione e ve lo lasciate dire o no super commissione mino raio la ragazzi cioè adesso lo si critica pensa solo i soldi però gli si è permesso di diventare così e lui è stato molto intelligente adesso apro e chiudo parentesi ma uno che è vero che faceva il pizzaiolo ma che andava a vedere le giovanini dell'ajax e apre una pizzeria di fronte al campo di allenamento delle giovanili dell'ajax in modo tale che i giocatori vadano a mangiare la pizza lì per poterli agganciare per poter chiedere loro se hanno bisogno di un'assistenza a livello contrattuale eccetera e ragazzi è uno che ci vede lungo è l'ha fatto col settore giovanile dell'ajax sapendo che l'ajax è una squadra che fa del settore giovanile il proprio bacino la propria riserva economica ok la propria cantera diventa successivamente prima squadra ed è lì che si alimenta economicamente quindi è tanto criticato gli si salta tanto addosso metaforicamente anche perché salta gli addosso fisicamente è molto dura perché è molto ben piantato ok ma si parla di una persona molto intelligente molto intelligente e si è arrivato a questi livelli e perché ha trovato per non è che i soldi se li crea da solo i soldi glieli danno eh i soldi glieli danno e se glieli danno un motivo ci sarà una ragione ci sarà quindi stiamo parlando sicuramente di uno dei più grandi procuratori che ci sono in circolazione e che farà la storia degli agenti o dei procuratori a livello mondiale ce ne sono pochi altri al mondo come lui quindi stiamo parlando di una persona che sa fare il suo lavoro poi dopo tutto il resto fa parte della di giudizi morali di così di 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 idee che uno si fa sul sul suo lavoro su quello che è eccetera però dal punto di vista delle capacità della perspicaccia o va a beccarsi sempre i giocatori migliori vuol dire che ha sotto di sé un'organizzazione molto importante molto lungimirante e che ci sa vedere molto 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 bene nelle caratteristiche di un calciatore comunque nel vedo questo colloquio quindi poi è chiaro che la suggestione ti fa dire che non hanno parlato solo di donna roma hanno parlato anche di pogba hanno parlato di questo di quest'altro è quando si prendono i contatti con un procuratore di questa portata e che ha questi nomi sotto di sé è normale che si parli un po di tutti ma è una presa così di di conoscenza della situazione no non è detta che poi tutto quello che ha minoraio la si perfezioni con la juventus per pogba è difficilissimo ragazzi torno a ribadire quello che dicevo l'anno scorso e che dicevo anche due anni fa il prezzo è altissimo l'unica possibilità sarebbe forse farlo rientrare in un affare con cristiano ronaldo ma non è così semplice e poi vengono soldi al manchester united non alla juventus vanno soldi al manchester united oltre a ronaldo capite che non è semplice e poi parliamo di un ingaggio importantissimo è vero che quello di ronaldo è stra più importante rispetto a quello di pogba è quasi il doppio però insomma non è semplice come vedete che non è così più se non è tanto più semplice la questione donna rumma perché il famoso potere di cui si parla di massimiliano allegri ossia la possibilità comunque di indirizzare il mercato anche secondo le proprie i propri intendimenti fa sì che allegri stimi moltissimo cesni stimi moltissimo cesni e che quindi a lui se rimane cesni non dispiace assolutamente e da qui a dire che possa aver detto alla società di tenere cesni non ci passa molta differenza secondo me secondo me così come è riuscito l'avete saputo appreso dall'amico romeo agresti ve l'avevo detto che è una persona molto affidabile avrete saputo che è molto probabile che morata rinnoverà il prestito con la juve anzi romeo dice è così e io sono spinto a crederci assolutamente ci credo a quello che dice romeo quindi morata rinnova il contratto ma qua si tratta allora voglio dire è la prima cosa che abbiamo pensato tutti nel momento in cui è arrivato massimiliano allegri mentre pensavamo il contrario quando non si parlava di massimiliano allegri anzi praticamente la società aveva già fatto capire al giocatore che non avrebbe rinnovato ricordate l'intervista in cui morata disse io starei qua a vita ma non dipende da me lo deve volere la società quando un giocatore parla così è perché ha capito che al 90 per cento andrà via non verrà rinnovato il prestito è arrivato allegri viene rinnovato il prestito quasi certamente questo significa che allegri effettivamente ha la sua voce in capitolo e non solo la voce in capitolo la sua presenza bernardeschi è felicissimo di rimanere alla juventus con allegri rabbiò che ha detto che due anni fa aveva scelto la juventus perché c'era massimiliano allegri poi attenzione attenzione che i giocatori sono anche dei gran paraculi e si può dire giocatori no sì cioè nel senso che non lo so è vero che rabbio però era stato preso a gennaio quando c'era ancora allegri effettivamente questo depone il suo favore depone il suo favore che rabbio stia bene alla juventus è innegabile che l'ultimo rabbio faccia comodo alla juventus credo che sia altrettanto innegabile c'è massimiliano allegri insomma sono allenatori sono personaggi che vanno anche senza come dire pronunciarsi direttamente nei confronti giocatori vanno ad influenzare il giocatore il giocatore vuole rimanere con massimiliano allegri che che ne dicano tanti o alcuni che che alcuni dicano il contrario ok quando hai un allenatore così un giocatore ha la voglia di ricominciare la voglia di allenarsi con un allenatore così io lo so che adesso sto creando la solita frattura no tra chi è a pro e chi è contro anche se credo che ultimamente il partito dei pro si è aumentato considerevolmente proprio sulla scorta negli ultimi due anni di esperienza senza nulla togliere al fatto che sari ha vinto uno scudetto e questo non bisogna assolutamente dimenticarlo e che andrea pirlo ribadisco ancora una volta poteva avere tranquillamente per quanto mi poteva riguardare cioè nel mio piccolo poteva avere tranquillamente una seconda chance perché forse era riuscito a capire i meccanismi che servivano ma detto questo un allenatore come allegri fa la differenza già solo nel nome fa la differenza già solo nel nome la sua presenza che ancora fisicamente non sia verificata a torino se non quando va a trovare il suo figlio che vive e studia lì la sua presenza è già qualche cosa è già uno stimolo ulteriore per il calciatore e questo mi dà l'idea del peso specifico che può avere un allenatore così che poi possa piacere possa non piacere io lo so che torneranno i puristi del bel gioco quelli che si vogliono divertire però ragazzi io credo anche una cosa che dopo un anno in cui la juventus non ha vinto lo scudetto dopo nove anni che lo vinceva dopo un anno che ha vinto che non ha vinto lo scudetto io credo che il partito di coloro vincere l'unica cosa che conta farà ulteriori proseliti nella prossima stagione io ne sono fermamente convinto poi quelli che devono per forza criticare quelli che devono come come perché no essere coerenti con quello che dicevano due anni fa c'è il bel gioco e allegri non ti fa divertire quelli probabilmente ci saranno e io anche ammiro la coerenza è cioè voglio dire la stimola coerenza delle persone così come trovo ammirevole un ripensamento ripensamento cosa vuol dire ammettere di essersi sbagliati e ammettere di essersi sbagliati è uno dei gesti più nobili che ci possano essere vedremo è perché poi naturalmente è sempre il campo che decreta tutto è sempre il campo che decreta tutto ragazzi quindi adesso sono chiacchiere dalla fine di agosto quando ricomincerà il campionato saranno i fatti a dire se la juventus ha avuto ragione se allegri ha fatto bene a tornare se allegri è colui che può riportare la juventus verso determinati traguardi o meglio verso quel traguardo che è mancato e verso quell'altro che resta lì che resta lì che però vedete come la champions l'ha vinta il celsi con chi con tu che l'anno scorso l'aveva persa col pari san germain la champions è una competizione bastarda perché tutti avrebbero l'ha detto allegri ma la pensiamo un po' tutti così credo a tutti dicevano che l'avrebbe vinta guardiola che non la vince da un sacco di tempo tutti l'avrebbero detto che l'avrebbe vinta guardiola non l'ha vita l'ha vinta tuckel alla seconda finale consecutiva persa l'anno scorso vinta quest'anno l'anno scorso che poteva vincerla secondo i favori del pronostico aveva sicuramente più chance con il pari san germain la persa quest'anno che nessuno quando nessuno accreditava il celsi di un di una percentuale che andasse oltre il 35 per cento di vittoria contro city l'ha vinta col col celsi è una competizione bastarda e allora bisogna essere bastardi dentro dentro vabbè dai prossimo video a domani iscrivetevi al canale iscrivetevi anche al canale mio figlio balzerini a presto che comincia la settimana e vediamo cosa succede ciao